Suoni, colori e tanto entusiasmo, il centro di Termoli illuminato a festa per la seconda edizione della Baskers Night. Un'intera serata dedicata agli artisti di strada, le principali vie della città in base di gente, dai più piccoli ai più grandi. Spettacoli itineranti, musica, mangiafuoco e tanto divertimento. Una serata caratterizzata da due momenti in particolare. Il primo in via Federico II di Svevia, con l'esposizione fotografica Punti di Vista a cura del Circolo Buonaluce. Il secondo a seguire con le esibizioni degli artisti lungo le strade del centro città. I bambini sicuramente i più felici, un'iniziativa che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni e che ha messo in luce talenti spesso sconosciuti. Acrovazie, trampolieri, musicisti, ma anche statue animate e illuminate. Alte libertà espressiva si sono fuse in una serata magica, favorita anche da piacevoli condizioni climatiche.